Sono risparmi che non esistono, sono 4 lire, 4 centesimi rispetto ai risparmi veri che sono quelli che noi facciamo come regioni. Non a caso noi siamo le regioni virtuose, il bilancio dei virtuosi. Non tutte le regioni sono così, ma noi siamo un esempio e lo dice anche il fatto che noi abbiamo l'obbligo del bilancio, del pareggio di bilancio dal 2015 che noi rispettiamo, lo Stato invece se l'è portato al 2019. Se vogliamo parlare di risparmi veri bisogna prendere esempio da ciò che Lombardia, Veneto e Liguria fanno nel loro bilancio, risparmi veri, consistenti, pareggio di bilancio e investimenti. Il resto è solo la propaganda di Renzi.